Ma nessuno sa se quel punto esiste veramente, perché nessuno è mai tornato. Nessuno, tranne me. No, errore. La scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha. Ma non mi diverto più adesso. Non vale. Ma voglio finire io il racconto. Ascolta bene, è una storia bellissima. Non l'hai capito? Non ci sei arrivato? Non è divertente? Il tuo errore più grande non è stato non riuscire a trovare una risposta. Se fai le domande sbagliate, non troverai mai la risposta giusta. A me sembra un accordo tutto sommato ragionevole. È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Grazie. Grazie.